5, 4, 3, 2, 1, vai! 50, destra 5 lunga, pera sinistra 3 chiude, 3 chiude, questa chiude, sinistra 5 chiude, 100, tornante sinistro là in cima, tornante sinistro. 100, destra 4, per accenno sinistro, per tornante destro, accenno sinistro, per tornante destro, 100, sinistra 3 più, 200, sinistra 5 lunga, per destra 5, taglia, destra 5 taglia, questa, in sinistra 5, e 300, 100, destra 5, 50, tornante sinistro, 50, tornante sinistro, 100, tornante destro, no assolutamente all'interno, Giorgio, che è questo. Sinistra 5, per destra 5, per sinistra 5, e 100, accenno destro, per accenno sinistro, e 50, sinistra 5 due tempi, sinistra 5 due tempi, per destra 5, 100, alla staccionata, alla destra 5, 100, tornante sinistro, Sto in qua c'è un tornante sinistro, 50, sinistra 5, e 50, accenno sinistro, subito, tornante destro, no, assolutamente all'interno. Arcazio per tornante sinistro, 500, 500 destri, dopo la pianta, destra 5, non so come fai a vederla, che diventa, 3 lunga lunga chiude, diventa 3 lunga lunga chiude, qua in fondo, per sinistra 5 lunga, 5 lunga, per destra 5 lunga, per destra 5 taglia, per sinistra 5 lunga, e 300 vista, 300 vista, destra 5 addosso, e 100 al cartello, 100 al cartello, destra 4 bivio, sporco, molto sporco questo qua, 50, accenno destro, per sinistra 5, e destra 5 lunga taglia, lunga taglia, e al palo, sinistra 5 chiude, qua in cima, sinistra 5 chiude al cartello, per accenno destro, per tornante sinistro, per tornante sinistro, tornante sinistro qua in giro, staccionata, destra 3, e 30, destra 3 lunga apre, destra 3 lunga apre, per, c'ho la bacca del cambe, destra 5 lunga, lunga deve essere quella della pozzanghera, giusto? 5 lunga lunga, occhio qua, è la casetta, sinistra 5, e 30, sinistra 5 lunga, sporca, no, 4 che sta, scusa, porco dio, ah, 200, scusa, sinistra 5, per destra 5 lunga, 20, sinistra 5, per destra 4 chiude, 4 chiude, in sinistra 5, in sinistra 5, per sinistra 2 taglia sporca, la dietro, 2 taglia sporca, scusa Giorgio, aspetta che arriviamo alla sinistra, 2 taglia sporca, ok? Questa? Sì, va bene, ci riprendiamo, 100, in sinistra 5, 100, stai a sinistra, che spancia, e accenno destro, per sinistra 3, sinistra 3, per destra 4 diventa 3 chiude, 4 diventa 3 chiude, e accenno sinistro bifio, sinistra 4 più, 4 più là in fondo, e 50, destra 3 più, destra 3 più, e al palo, sinistra 5 diventa 3, diventa 3, in ritardo, in ritardo, destra 3 apre, in sinistra 5, e 20, dosso, destra 5, per sinistra 5, e subito, sinistra 3, e la dietro, la dietro, sinistra 3, per destra 5, per sinistra 5 lunga, 200, accenno destro, per sinistra 5 sconnessa, 5 sconnessa, e 150, molta attenzione, paletti, destra 2, molta attenzione, paletti, destra 2, 100, ritarda, sinistra 4, per sinistra 4 chiude, sinistra 4 chiude, per destra 5 lunga, e alla pianta, alla pianta, sinistra 4 gira, 4 gira, 4 gira là in fondo, per destra 5 scende, 50, destra 5 scende, 50, destra 5, per sinistra 5, per destra 5, e 150, destra 5 che è questa, al palo sulla in cima, accenno destro, per molta attenzione, sinistra 3, più lunga chiude, più lunga chiude, per destra 3 taglia, destra 3 taglia, che arriva adesso, io, 200, accenno destro, per sinistra 3 meno, due tempi apre, 3 meno, due tempi apre, e ritarda, destra 3 più taglia, 3 più taglia, qua dietro, per sinistra 5, 5, e 30, al boschetto, destra 3, 3, sporca, 300, al dosso, sinistra 4 tieni, sinistra 4 tieni, per destra 4 taglia, per destra 4 taglia, per sinistra 3 gira, sinistra 3 gira dopo, 200, destra 5, per destra 4, per destra 4, e al dosso 50, 50, sinistra 5, per destra 5, in molta attenzione al cartello, sinistra 3, al cartello sinistra 3, 100, sinistra 5, 50, sinistra 4, su dosso bivio, che magari sporca all'interno il bivio qua, che devi scendere, 200, al cartello girato, destra 5, subito sinistra 3 più, subito sinistra 3 più, per destra 4, per destra 3 tieni, e sinistra 5 lunga, subito sinistra 5 lunga, per 50, destra 5, e 100, sinistra 4 lunga chiude, 4 lunga chiude, e subito sinistra 3 taglia, 3 taglia, per destra 5, e la casetta, destra 2 no, sulla destra 2 no, accenno destro, 100, al tetto sinistra 1 gira, sinistra 1 gira, e 50, tornante destro, 50, tornante destro, sinistra 3 gira, sporca, e a rail, destra 2, destra 2, per accello sinistro, in sinistra 3 gira lunga, sinistra 3 gira lunga, 3, tornante sinistro, ecco zio, tornante sinistro, 30, per tornante destro, 50, destra 4, al rosso, molta attenzione, destra 4 diventa 2 alla pianta, diventa 2 alla pianta, e 30, tornante sinistro, 200, sinistra 4, chiude per destra 5, 4 chiude per destra 5, 100, vista, sinistra 5 meno, 5 meno, e 200, sinistra 5 taglia, sinistra 5, e a cartello rovescio, molta attenzione, destra 3 più, che è qua, 50, tornante sinistro, tornante sinistro, destra 5, 50, a cartello rovescio, sinistra 3 lunga chiude, e 3 lunga chiude, e 100, accello sinistro, per destra 3, e subito destra 1, e subito la destra 1, dopo questa, merda, accello sinistro, 30, sinistra 4, e al rail diventa 3, al rail diventa 3, per destra 3, per sinistra 4, 50, alla pianta, destra 2 taglia sporca, qua dietro, destra 2 taglia sporca, 50 al rail, sinistra 1 per tornante destro, 30, destra 1 chiude, 50, sinistra 2 più, 2 più, 150, tagliano che qua, figo, accenno sinistro, per molti attenzione, sinistra 3 chiude, per destra 5, 30, destra 5, diventa 4 al rosso, diventa 4 al rosso, 30, accenno destro, intornante sinistro, accenno destro, per accenno sinistro, e 30, sinistra 3, vai, 50, tornante destro, 50, al rosso, destra 3, destra 3, per sinistra 5, per destra 5 tieni, e subito sinistra 3, e subito sinistra 3, 50, destra 4 tieni, per sinistra 5 tieni, per destra 3, per destra 3, destra 3 qua, 200 vista, destra 4, 50, accenno destro, intornante sinistro, intornante sinistro, 200, accenno sinistro per tornante destro, 50, destra 5, e al rosso, sinistra 2 taglia, sinistra 2 taglia, cartello, 200, al pallo destra 3 chiude, per sinistra 5, e 30, sinistra 5 taglia, quella la famosa, e 100, alla casa sinistra 2, alla casa sulla in fondo sinistra 2, e, destra 3 lunga, apro le gomme, per destra 5, grazie a tutti